Ciao Rip, cosa ne pensi dei consulenti finanziari indipendenti? La parcella richiesta vale un eventuale maggior rendimento rispetto al fai-a-te? Di un buy-and-hold e ben diversione del TF? Domanda interessante, parzialmente la risposta è... La domanda è scottata, pericolosa. Ho vari modi di rispondere. Partiamo con la risposta più de panza, che è del tipo NO, compra, fai le cose per conto tuo. Questa è la risposta che darei di pancia. Il prezzo non vale il gioco. Poi elaboriamo. Mi dico, ma quindi è perché loro se ne approfittano in realtà? Poveracci. Perché il mondo della consulenza indipendente, autonoma in Italia è un disastro. A livello di regolamentazioni, a livello di oneri fiscali, a livello di reportistica, di compliance, di cose da pagare, dati da dover mandare, carta, carta, carta. Cioè, per un consulente finanziario indipendente, avere un cliente è una rottura, è un costo infinito. E quindi non ti può chiedere zero. Non ti può chiedere pochissimo. E quindi, ovviamente, per questa inefficienza di mercato, che è tantissima burocrazia da dover fare, poi, diciamo, si è sensato o meno. Però col fatto che la normativa ti dice, se vuoi un cliente, tu, consulente finanziario, devi spendere 5.000 l'anno soltanto di burocrazia. Supponiamo che sia vero questo dato, e quindi se arriva uno con 100k, gli devo chiedere il 5% l'anno. Ha preso un criminale? No, perché mi costi 5.000 tu, di burocrazia. Quindi è ovvio che poi le cose scalano meglio a capitali più alti, però comunque c'è un overhead amministrativo, burocratico, imposto dalla legge, che è molto alto. Quindi, in teoria, a causa di questo, il gioco difficilmente vale la candela. Se non ci fosse questo overhead, magari potrebbe esserci una competizione molto più dura, magari potresti trovare dei consulenti indipendenti che ti fanno anche lo 0.3, 0.2, 0.04%. Adesso, invece, devi lasciare l'1 e passa per 100 se non hai capitali molto alti. E non ti si pigliano se hai meno di 100k. Anzi, anche a 100k è difficile qualcuno di si pigli. E questo qui è brutto. Però, tu dici, però che fai? Vorresti levare la regolamentazione? Ovviamente no, parte della regolamentazione è per tutelare il risparmiatore. Anzi, tutto è per tutelare il risparmiatore. Ho fatto, formai, un annetto e mezzo fa, una call lunga con uno dei più grandi consulenti indipendenti che ci sono in Italia, con più clienti, e mi raccontava la quantità di dati che doveva trasmettere. Tipo, ogni anno, quante persone gli era stata cambiata la categoria di rischio Mifid? Perché molti, molti, una volta tu entravi in questionario, hai paura di tutto quanto, ti metto in categoria protetta e poi segretamente ti alzo la categoria di rischio e ti impiazzo il bond argentini. Quindi, in teoria, dovevi comunicare le masse di capitali investiti per ciascuna categoria di rischio e ogni volta c'è un cambiamento a spedire. Mi ha tenuto un'ora a raccontarmi tutta la burocrazia. E quindi via. È tutta quanta roba buona? Penso che sia over-ingegnerizzata. E a sto punto, quasi complottisticamente, viene da dire che è fatta per favorire le banche, i loro promotori, i consulenti, anche la nomenclatura, consulenti autonomi abilitati all'offerta fuori sede. Non lo so. Penso che nella tantissima regolamentazione imposta ai consulenti indipendenti ci sta le banche che sono contente di far sì che tu, indipendente, debba avere i bastoni tra le ruote. Potrebbe essere ridotta tranquillamente, di parecchio. È in Italia. In Italia ha burocrazia ovunque, per cui sicuramente è troppa sta burocrazia. Fosse molto più bassa, i costi potrebbero essere più contenuti. In generale c'è una threshold, c'è una soglia, c'è una barra sotto la quale direi sai che c'è, se proprio non vuoi prenderti sta patente, se ti costa 0,4% l'anno, affidati a qualcuno. Se ti costa 1% l'anno, 0,3%, 0,25% la mia soglia per la quale forse pure io darei i miei soldi a qualcuno e me ne sbatto. Sopra 0,25% fai per conto tu e fai prima. Una fida ETF, conta che poi è on top degli ETF, cioè tu gli paghi uno 0,25% e il sottostante avrà altro TER, ti fanno investire su prodotti che hanno anche dei TER di quel tipo là, per cui in teoria è un robot advisor americano. La mia famiglia aveva un po' di soldi investiti in Redacted, pura merda. Ovviamente mega conflitti di interesse, costi annuali alti, diventi imbarazzati, ho visto tantissime cose. La gente mi chiama per farmi vedere in cosa viene fatta investire e io gli analizzo dicendo questo è quello che ho fatto, questo è il benchmark, guarda, giudicate, non posso dirti cosa fare, ma giudicate per fare education su queste cose qua. e io vedo roba ragazzi che è agghiacciante. E spesso la situazione è questa qua, figlio che vede il genitore che investe di merda, il figlio è più consapevole, cerca di spronare il genitore a investire meglio, il genitore però che dice ma come, io il banchiere è il mio amico, ha la giacca, ha la gravatta, è molto più affidabile di un libro, di uno youtuber, però portato di fronte a dati, backtestandogli le sue strategie, con strumenti etf è difficile poi non rendersi conto. Good point, l'aiuto di valore è su pianificazione successoria e pensionistica. La consulenza finanziaria si occupa di tantissimi aspetti, tra cui anche la, ma anche tutto quanto quello che riguarda il financial planning, non è soltanto creare il portfolio su cui investire, il financial planning è molto di più. Ammetto, mi contattano persone che hanno situazioni disperate, vogliono raggiungere gli obiettivi, però c'è il percorso per arrivarci, cioè non è che è un attimo, non è che tutti partono da tabula rasa, c'è gente che parte con mia zia è morta in Belgio e c'ha tre appartamenti a Val Guarnera, caro Pepe, uno è incomodato d'uso a mia nonna, gli altri due sono uno occupato, l'altro è affittato ma rende poco, vorrei investire in etf, che faccio? Vendo tutto, è complicato, cioè non è che c'è, non tutti partono da tabula rasa, molti partono, una situazione complicatissima, con vincoli, con soldi in conti in escrow, che devi aspettare per liberarli, con future, il financial planning è una cosa molto complicata, è molto problem solving, quello lì è l'aspetto più interessante, che forse vale una consulenza, fee only, consulenze fee only, non esistono molto in Italia, ma consulenza magari, come fanno gli avvocati, come fanno altre professioni, in cui ti pago X, mi risolvi un problema, ciao, non in percentuale sul NAV, gli step per investitore sono, niente investimenti, solo bot, robo advisor, investitore consapevole, vabbè dai, c'è di meglio, dai, c'è di meglio, tra niente investimenti, almeno un conto deposito, poi solo obbligazioni italiane, e poi probabilmente, robo advisor, investitore consapevole, ma a mio avviso, ci si deve poter arrivare, a diventare un investitore consapevole, gli unici che sono scusati, sono chi è particolarmente anziano, e ormai non ha più energie, voglia, tempo, anche elasticità mentale, oppure chi è particolarmente ricco, e impegnato, imprenditore, a quel punto lì, può cercare una soluzione, però dovrebbe fare scouting, dei migliori indipendenti che ci siano, negoziare delle tariffe ragionevoli, che sopra certe soglie, se hai un milione, non dovresti pagare più dello 0,5%, per farti gestire i soldi, in maniera indipendente, e non in conflitto di interessi, e via. Grazie.